Buonasera amici del Bar Capri, siamo qui oggi è lunedì e ci sono le mezze serate. Sono felicissima di presentarvi l'Interplay Quintet in barba alla programmazione televisiva di questa sera che vedeva l'inizio del Grande Fratello, noi stasera come tutte le sere qui al Bar Capri facciamo dell'ottima musica e stasera i protagonisti di questo palcoscenico saranno gli Interplay Quintet, voglio subito presentarveli, a fianco a me c'è il portavoce che è il tastierista della band, gli altri si sono delegati. Innanzitutto buonasera a tutti e volevo ringraziare naturalmente la direzione artistica e chi altro in effetti partecipativamente a questa organizzazione, ringrazio naturalmente a nome di tutto il gruppo. Nulla, noi siamo gli Interplay Quintet anche se in questo momento mi hanno fatto rappresentare gli Interplay monoplay in effetti perché si sono tutti direguati, sono timidi diciamo per chi non li conoscesse. Nulla, in effetti già dalla parola Interplay noi cerchiamo di interpretare ciò che tra virgolette la gente vuole. In effetti il nostro è un progetto studiato a tavolino ci reputiamo, diciamo così, cinque piccoli professionisti che organizziamo eventi su misura ad hoc proprio per quello che è l'esigenza del nostro cliente. Quindi in effetti c'è la possibilità di personalizzare playlist, organizzare eventi su misura. In effetti siamo i Music Planner, io ho inventato questo nome. Più che jukebox, non lo so. Più che jukebox, poiché noi facciamo musica dal vivo, quindi il jukebox in effetti è la musica in tempo reale, poi lì premi il pulsantino. Noi in effetti siamo la musica programmata anzitempo, quindi vengono, si organizzano con noi, curiamo nel minimo dettaglio quello che viene chiesto, tutte le esigenze dei nostri clienti e poi li realizziamo in fase del punto. Sì, va bene. E quindi il target a chi vi rivolgete, insomma? Nonne, nonni, diciamo, matrimoni, comunque. In effetti non abbiamo limiti di cerimonia. Dire clienti è come se siamo un po' troppo commerciali, però diciamo non abbiamo limiti di cerimonia. No, non faccio cerimonia. In effetti chiunque ha la necessità, l'esigenza di ascoltare buona musica, naturalmente noi lo accontentiamo il più possibile. Com'è un vostro concerto, tipo? Non lo so, io non ho bene in mente come funziona, però mi chiede, no, viene uno vicino e mi chiede, Gigi D'Alessio in Chiave Blues, la fate? No. Gigi D'Alessio no. Se poi, diciamo, c'è qualche pezzo di carta viola in più, allora diciamo ci diamo il pizzicotto sulle dita e ne approfittiamo, però diciamo no, a tutto rispetto con Gigi D'Alessio, però... Per questo vi vogliamo ancora più bene. Vabbè, avete una pagina o un sito dove vi possono contattare su Facebook, insomma, dacci qualche notizia. Sì, allora c'è la pagina su Facebook che è Matrimonio su Misura, c'è proprio un sito che è www.matrimoniosumisura.com e lì troverete tutti i contatti, tutte le informazioni delle demo, dei video, anche se il sito è in fase di allestimento, però c'è già un bel po' di materiale da poter ascoltare e vedere. Mi piace, perché è una cosa poi che va, no, 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 è un po' alla moda come cosa, no? E penso pure ai wedding planner, no, tutto organizzato, music planner, bellissimo. Beh, allora se volete contattarvi, io mi auguro proprio di sì, avete tutti i contatti, fatelo, ovviamente, sposatevi, se avete voglia, se avete soldi, vabbè, vi lascio subito alla loro musica e li ringrazio ancora, grazie mille. Grazie a voi, buon aspetto.